chiusura di contrattazioni freeway run e faibana jet i più appoggiati in un campo che vede ben 5 femmine con un solo maschio il castrone freeway run che ha chiuso favorito 100 metri allo stacco della macchina si ritrae fanny lady font e si parte il galoppo di freeway run all'interno la più veloce è florence che scavalca femme fatale si sistema terza invece faibana jet davanti a freestyle horse lancio in 14 8 con florence che piglia subito in mano la situazione rallenta con faibana jet che invece prova a mettere la testa in fuori dalla terza posizione poi ritorna terza in corda e per i 400 metri in rallentamento vengono chiusi in 30 spiccioli florence fan fatale faibana jet freestyle horse poi fanny lady font che prova a ricongiungersi adesso c'è l'attacco di faibana jet a paletto 600 metri passati in 46 3 si porta su florence che per il momento la respinge le due piano un paio di lunghezze a fan fatale si ritrae faibana e ripiega seconda i sci a florence che arriva a metà gara in 1 e 1 e qualcosa 1 2 e 2 siamo a metà della retta opposta pronti a imboccare la curva finale non cambiano le posizioni con florence davanti faibana che ritorna di nuovo all'attacco più indietro freestyle horse a pariglia fan fatale quindi fan di lady font florence è sempre davanti faibana è sempre reiterante nei suoi attacchi alla battistrada ultimo tratto della curva si fa ingresso indirittura arrivo con le due sempre all'ottare all'interno florence a largo faibana poi indietro fan fatale freestyle horse per il momento florence tiene l'iniziativa faibana ci crede nel suo attacco e la pariglia ai 150 finali florence per il momento la respinge florence e faibana jetta alle prese florence resta davanti respinge tutto e tutti e si impone a faibana jetta per il terzo posto termino a parigliate fan fatale freestyle horse 2 3 sul mio cronometro 1 16 8 il successo il primo in carriera di florence la figlia di arte si colori la signora benedetta baroni per il training e la guida di luciano genti al secondo posto e 6 di faibana jetta foto per il terzo tra il 3 di fan fatale all'interno e due freestyle horse è tutto da siracusa 2 50 la quota di da cota dei greppi 2 89 quella di da mita di venere i due soggetti più appoggiati quantomeno al totalizzatore si ritrae drago caparro lo stesso fa conquista d'orbi gli altri quattro a lottare per il comando della corsa prova a mantenere la corda da cota dei greppi da corri via font che si ritrae subito resta a largo invece da mita di venere e dulce delle ci si mette terza 200 metri se ne vanno in 13 e 2 con da cota dei greppi da mita di venere che si fa il posto secondo davanti a corri via quindi dulce delle ce drago caparro e conquista d'orbi partito piuttosto lentamente si affronta la prima curva 400 metri iniziali in 28 e 4 fila indiana adesso dulce delle ce mette la testa in fuori dalla quarta posizione va a largo sul rallentamento della battistrada è così da cota dei greppi si ritrova leader al paletto 300 metri in 42 6 che comunque è una misura non va più avanti di tanto dulce delle ce la cui scia viene presa da drago caparra invece per linee interne si incune a conquista d'orbi da cota così è sempre leader a metà gara in un minuto un filo abbondante in seconda posizione c'è sempre da mita in terza corri via poi a largo dulce delle ce drago caparra chiudere conquista d'orbi il chilometro di dacota dei greppi in 1 14 7 allargo adesso da mita di venere si fa più intensa la sua progressione in terza ruota resta dulce delle ce drago caparra scavalcato tutti e si è messo secondo e scia da cota dei greppi quindi corri via font e conquista d'orbi si fa ingresso indirittura arrivo con dacota che adesso allunga e a largo da mita di venere non è più brillante drago caparra però non può uscire perché non ha la destra libera resta chiusa anche corri via font a largo dulce delle ce da cota dei greppi adesso si è liberato drago caparra ma il traguardo è troppo vicino da cota dei greppi ed americo ballo la portano a casa su drago caparra corri via font e dulce delle ce 1 58 e mezzo 1 14 1 il successo di dacota dei greppi colori singolo essendo scola il training di luciano genti che raddoppia dopo il successo di floranza la prima corsa americo ballo insucchia la fio di pascià dei greppi al secondo posto termina drago caparra al terzo il 2 di corri via font 162 è l'arrivo della seconda da siracusa 4 barnaba 3b andrea buzitta 5 dancing ferme gaspere lo verde 6 abracadabra f antonino pecoraro junior 7 dotta russo francesco la rosa 91 4 cavalli tutti in mezzo punto dancing ferme barnaba 3b abracadabra f dotta russo da 393 a 456 e macchina che va a staccare con barnaba 3b il più veloce prende subito l'iniziativa a largo dancing ferme che va a chiedere strada si sistema terzo bilio la sfera davanti a corso nero font quindi zeppelin q bar dot russo e abracadabra i primi 200 metri in 14 e 4 con dancing leader su barnaba 3b e billionaire sfer poi in quarta posizione corsaro nero font a precedere tutti gli altri chiusi sempre da abracadabra f scema il ritmo della gara con dancing ferme così 400 metri se ne vanno in un lento 31 e allora barnaba 3b muove di nuovo all'attacco e ripassa al comando proprio dopo 600 metri barnaba 3b è il nuovo leader con 600 metri in 47 e mezzo e adesso prova l'attacco zeppelin q bar che prova a sistemarsi secondo barnaba 3b leader dancing ferme con zeppelin nei fianchi 1 e 2 scarsi i primi 800 metri poi billionaire corsaro nero dotta russo e abracadabra f cavalli affrontano la penultima curva con zeppelin che è andato a chiudere in corda dancing ferme si porta su barnaba 3b che nel frattempo arriva al chilometro in 1 e 17 15 di frazione cavalli vanno adesso sulla retta opposta all'arrivo con barnaba leader a largo zeppelin di dentro dancing e poi billy nasfer a qualche lunghezza 1 30 e mezzo 13 e 7 di frazione con zeppelin che fa sentire la pressione a barnaba 3b contro la buzitta che però sembra poter gestire il cavallo ai mille 4 1 45 e mezzo ancora un 15 i tre avanti agli altri con billionaire che prova a farsi sotto insieme a corsaro nero e a dotta russo il calo di dancing quindi barnaba arriva al miglio in due minuti e cinque decimi secondo si è sistemato zeppelin più bar poi gli altri che provano a farsi vedere con barba che prova la fuga a palo lontano zeppelin e corsaro rafonta al loro inseguimento poi dotta russo e tutti gli altri si fa ingresso e addirittura arrivo con barnaba 3b leader alle sue spalle ancora in lotta zeppelin corsaro nero la stata qua anche centropista di dotta russo barnaba 3b resta davanti andrea buzitta in controllo e lotta solo per le piazze con l'attacco a centropista del francese dotta russo barnaba 3b deve difendersi dalla fondo finale dotta russo il palo è vicino e sul traguardo barnaba 3b si difende di poco da dotta russo zeppelin chiubar qualcosa di meno 2 45 sul mio cronometro siamo nell'ordine l'uno 14 8 il successo di barnaba 3b i colori del signor giuseppe biondo training e guida di andrea buzitta al secondo posto il 7 di dotta russo precede il 2 di zeppelin chiubar 472 è l'arrivo della terza da siracusa si ritrae evita tunes si ritrae anche miro cremar gli altri tutti ben allineati si parte con ella de 3b che mette pressione a etienne griff e riceve strada allargo eleno arrab a chiudere in corda euforia jet quindi emiro clemar ed evita tunes lancio in 13 3 etienne griff para l'avanzata di eleno arrab e si porta su ella de 3b eleno ar comunque resta di fuori 400 metri percorsi in 28 e 8 e leno arra adesso si presenta a largo con fare minaccioso nei confronti di tenne griffi 600 metri in 42 e 4 attacca leno arra di en griff e dopo 700 metri passa al comando e anche con spesa perché metà gara si arriva in 57 secchi da 1 11 e 2 etienne resta secondo e la de 3b va in anticipo su emiro clemar si arriva così al chilometro in 1 12 e 2 ed emiro clemar adesso si presenta su eleno arrab che è chiamata a maggior impegno da andrea buzitta e la de 3b e euforia jetta a seguire emiro mette sotto pressione eleno arrab per tutta la curva finale attacca duramente tende a passare già all'imbocco dell'addirittura d'arrivo operazione che riesce dopo un chilometro in 1 12 e 7 emiro clemar stacca stacca netto e lotta solo per le piazze con euforia jetta che si presenta su eleno arrab in calo invece ella de 3b emiro clemar fa vedere di che passo è fatto quando fa il giudizioso emiro clemar rassegno su euforia jetta quindi eleno arrab della 3b qualcosa meno di 1 e 56 siamo nell'ordine l'1 12 e 3 il successo del varen di casa vinci guerra il training e la guida quella di gaspare lo verde 43 e 4 gli ultimi 100 metri al secondo posto un'ottima euforia jetta prende sopravvento su eleno arrab che ha pagato lo scotto dello strappo per passare al comando 5 3 6 e l'arrivo della quarta da siracusa resta un po' arretrato frito cam poi si raggiunge ma si giusta un po' arretrato frito cam poi si raggiunge ma si giusta un po' di getta di galoppo e così si parte si parte con febbo caff leader davanti al numero 2 di furone galle terzo si sistema invece fiona 3b davanti a farioz a lunghezze frito cam 13 di lancio cavalli affrontano la prima curva con febbo caff che è già una ventina di metri vantaggio sugli altri 3 i 400 metri iniziali se ne vanno in 28 e mezzo nel frattempo si avvicina farioz ripeto numero 1 squalificato tabellone così sulla retta di fronte i 600 metri iniziali in 43 e 1 febbo caff furo regal quindi fiona 3b e farioz il quartetto che si pone con farioz che pia la via del largo va a chiudere in corda il numero 2 di furone galle 59 1 a metà gara furone galle anticipa la mossa di farioz e si porta su febbo caff che comunque allunga il chilometro se ne va in 1 13 e 4 14 e 3 di parziale furore viene chiamato a con maggiore energia da luciano messineo che si porta su febbo caff anche lui chiamata a meno impegno da gaspera lo vede farioz segue i due adesso da vicino fiona 3b un po più indietro furore galle attacca decisamente febbo caff ai 200 finali prova a prendere la meglio dalla sua scia muove però al centropista anche farioz e lotta tra i due di gasparello verde junior con furore galle che riesce a contenere l'attacco finale di farioz furore galle e luciano messineo al segno davanti a farioz quindi i due di scuderia febbo caff e fiona 3b 1 59 1 14 e 4 il successo di furore galle colore signor antonio marchese gasparello verde junior al training luciano messineo da catch al fio di london griff al secondo posto il numero 6 di farioz quindi un play in per lo verde junior al terzo il 5 di febbo caff 265 è l'arrivo della quinta da siracusa lì dietro il mezzo meccanico mancano 150 metri allo stacco della macchina il galoppo di Ed Sheeraner prima dello stacco lottano Eolo FKS ed Emanuele New York che sembra poter prendere la meglio ripiega invece Roiko Gams in terza posizione davanti a Ernest Fonte ad Epica Daki Emanuele New York leader dopo 200 metri in 12 e 9 resta secondo Eolo FKS davanti ad Eroico ha un paio di lunghezze Ernest Fonte precede Epica Daki e il quintetto affronta la prima curva e 400 metri iniziali veloci in 27 e 3 e 5 cavalli così vanno sulla retta opposta all'arrivo con Emanuele New York leader 600 metri iniziali in 41 e 8 si va di lena ha preso la mano a Dario Di Maio il figlio di New York New York adesso prova a rallentare dalla terza posizione muove Roiko Gams che si porta sulla testa della corsa 57 e mezzo per gli 800 metri con il galoppo nelle retrovie di Ernest Fonte chilometro in 1 e 13 con Eroico Gams che ha preso nettamente la meglio sul calante Emanuele New York con Eolo FKS che va a caccia di Eroico provando a recuperare qualcosa terza risale Epica Daki che muove a largo si entra in dirittura arrivo con Eroico Gams che ha una ventina di metri di vantaggio sugli avversari si va a completare gli ultimi 200 metri con Eroico leader in contrastato Epica Daki che nel frattempo ha sopravanzato Eolo FKS va a caccia di Eroico che cala un po' con il suo ritmo ma è traguardo e vicino Epica si avvicina arriva al ridosso ma è troppo tardi perché Eroico Gams si impone ad Epica Daki quindi Eolo FKS Ernest Fonte 1 e 58 1 e 13 e 7 il successo di Eroico Gams colori della signora Francesca Maria Candela Alessio dichiara al training e alla guida sul figlio di Napoleon Bar al secondo posto termina il 6 di Epica Daki che precede il 3 di Eolo FKS 5 6 3 è l'arrivo della sesta da Siracusa Estremo Outsider invece il numero 8 di Carinissima OP 100 metri allo stacco della macchina prima fila ben allineata il galoppo di Crocodile Rock si parte è lotta per il comando tra Bora di Poggio e Cameliast con Bora di Poggio che pia l'iniziativa su Vis Road Cameliast che prova a ribiegare terza 200 metri iniziali in 12 e 9 Cavallo numero 6 squalificato Cameliast si presenta subito su Bora di Poggio a chiedere strada i cavalli imboccano la prima curva con Bora e Cameliast alle prese 400 metri in 27 e 6 segue in terza posizione invece Vis Road il galoppo di Bora di Poggio il galoppo di Cameliast resta così in avanti Vis Road cavallo numero 4 squalificato 42 e 2 prova ad avanzare dalle retrovie adesso il numero 1 di Zwick del Ciceo che si trascina a Brent RL si va a metà gara il 57 e 8 con Zwick del Ciceo che attacca e tende a passare su Vis Road proprio all'imbocco della curva finale primo chilometro in 1, 12 e 7 Brent RL segue Zwick del Ciceo Vis Road resta per il momento tezzo gli altri a una ventina di metri capeggiati da Umberto prende il largo Zwick del Ciceo all'ingresso della dirittura d'arrivo aumenta il suo vantaggio rispetto agli inseguitori il più immediato la più immediata è Brent RL può allungersi ancora Vis Road e tutti gli altri è un monologo quello di Zwick del Ciceo che allunga progressivamente Zwick del Ciceo non c'è stata storia in questa categoria di chiusura convegno si impone facile 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 a Brent RL Vis Road quindi carinissimo P e Bio Gaspar qualcosa meno di 1,58 1,13 e mezzo il successo di Zwick del Ciceo colore di signor Antonio Giannola Gaspare Lo Verde Junior all'allenamento Luciano Messineo che raddoppia in giornata dopo il successo di Furore Gall quota di 6,73 al secondo posto il 9 di Brent RL precede il numero 3 di Vis Road quindi 1,93 e lo di arrivo numerico ma assolutamente ufficioso della settima da Siracusa vi ricordiamo il prossimo video di corsa per domenica 10 marzo a tutti una buona serata a tutti ciao Grazie a tutti.